Fabio Gentili, uno dei nuovi acquisti del CRC proveniente da Oriolo. Da Oriolo Romano, sì. Che ruolo sei? Pirone sinistro. Quindi andrai a giocare sulla prima linea per sostenere la squadra? Eh già, purtroppo sì, purtroppo ovviamente è ironico, comunque è un ruolo che mi piace, solamente che bisogna imparare a convivere un po' con i dolori in cervicata, la schiena, però è un piacere comunque ricoprire quel ruolo perché ti ritrovi a dare tutto per i compagni. E fai sempre il possibile. Anche tu con la maggior parte degli acquisti del CRC proviene dalle Fiamme Oro, ci racconti un po' della tua carriera? Allora, negli ultimi tre anni sono stato alle Fiamme Oro Rugby, il gruppo sportivo della Polizia di Stato, che mi sono trovato benissimo là, è un centro sportivo completo di piscina, palestra e qualsiasi cosa, sono disponibili al 100%, mentre nell'anno precedente sono stato a Catania, con il San Gregorio Rugby, lì purtroppo non è andata benissimo rispetto alle aspettative che avevamo, mentre anche negli anni prima sono stato al Rugby Roma, mentre per le giovanili ho militato con la Capitolina Rugby, sempre nella squadra di Roma. Parlando proprio di Catania, quindi tu conosci il rugby siciliano, potrebbero essere delle avversarie nella seconda fase per il CRC, che squadre sono? Diciamo che sono squadre molto unite, attaccate alla maglia, e a me sarà difficile comunque quando vai a giocare in questi campi, perché trovi squadre comunque pronti a dare il massimo, però noi comunque stiamo qua ad allenarci, faremo il possibile, comunque abbiamo cominciato abbastanza presto, oggi con i test, poi il 24 cominceremo già con la preparazione e quindi come la partita che avverrà a Catania, come tutte le altre partite, comunque bisogna lottare, ogni partita comunque sarà difficile, non troveremo partire facili nel campionato, perché ogni squadra è pronta a vincere.